La mia ricerca cerca di indagare quelle zone un po' nebulose in cui l'arte, specialmente in paesi come l'Italia, l'arte contemporanea non è sempre accessibile a tutti. Il display è molto interessante, inteso come punto di contatto tra diverse identità, soggettività e subalternità. Può creare delle connessioni affinché si superino certe barriere, certe distanze tra arte e realtà e tra arte e anche pubblico dell'arte. Di sicuro è stato molto utile parlare della mia ricerca davanti a tanti altri artisti o curatori, di diversa estrazione geografica, perché ho avuto un feedback. Non lo so, io mi auto rappresenterei così.